E' stato pubblicato il nuovo bando del programma Erasmus Traceship 2022-2023 per i tirocini all'estero degli studenti dell'Università di Sassari. Si può presentare domanda di partecipazione attraverso il Self Studenti fino alle 12 del 10 giugno 2022. Il programma offre la possibilità di svolgere un tirocino all'estero presso un ente, un'impresa, un'istituzione, o un centro di ricerca situato in uno dei paesi europei aderenti ed è destinato a coloro che risultino regolarmente iscritti presso uno dei corsi di laurea. L'Università di Sassari mette a disposizione 976 mensilità per tirocini da svolgersi entro il 31 ottobre del 2023 e offre borse di studio che variano del 700 agli 875 euro mensili a seconda del paese di destinazione. Tutti i candidati e le candidate dovranno sottoporsi ai test di lingua che si terranno in presenza nell'aula di informatica del Cilea presso il Dipartimento di Storia Scienze dell'Uomo e della Formazione il 15 e 16 giugno 2022. Chi beneficia di una borsa Erasmus Plastering Ship potrà usufruire del supporto linguistico online attivato dalla Commissione Grazie a tutti! Grazie a tutti